Siamo io, Nunzio Fumo, e la mia collega Lucia Gammella, siamo due studenti dell'Università L'Orientale. Abbiamo preso parte a questo contest del Millennium Awards, che è un contest che viene organizzato appunto da un'organizzazione proprio per la generazione Z, insomma, più o meno, quindi dai 18 anche un po' oltre, verso i 30 anni, e appunto il tema era l'amore 4.0, quindi è una cosa che non ha a che fare con la nostra università, ma volevamo metterci in gioco e imparare qualcosa di nuovo. Brevemente Lucia le farà un'introduzione, diciamo, del nostro lavoro generale, e poi passeremo alle domande che le anticipo sono otto, principalmente sulla relazione tra teenagers e new technologies e tra humans and machines. L'unica cosa che le chiediamo, gentilmente ovviamente, cercheremo di fare delle domande il più aperte possibile, così da ottenere delle risposte il più aperte possibili e se lei, diciamo, riesce, se può, rispondere come se stesse parlando con dei totali asini, insomma, in materia. Sì, ok, ho presente. La ringrazio. Allora io passo la parola a Lucia che le farà questa breve introduzione e poi partiamo con le domande. Grazie ancora. Grazie, Enunzio. Salve, buongiorno. Io rinnovo la gratitudine per la disponibilità e la pazienza e, insomma, spiego quali sono i motivi che ci hanno spinto a prendere parte a questo progetto e che taglio, insomma, tematico abbiamo voluto dare a questo progetto sull'amore 4.0. Allora, i motivi che ci hanno spinto a scegliere questo tema, perché come spiegava Enunzio, si tratta di un contest, quindi c'erano varie tematiche a cui poter accedere e noi abbiamo scelto quella dell'amore 4.0 per la curiosità che ha suscitato il tema, ma anche per l'empatia poi che si è creata con il tema rispetto alla descrizione del progetto. E poi, come diceva Enunzio, si tratta di un contest, quindi l'eventuale potenziale, come dire, vincita e premio ci consentirebbe ad entrambi di coltivare dei progetti di formazione personali. Amore 4.0, che è il libro che abbiamo acquistato, è stato il primo step che ci ha consentito di capire le mille sfumature di questo tema e soprattutto di farne una cernita, di cui poi la selezione dei profili professionisti da introdurre all'interno del reportage, tra cui lei e la dottoressa anche Marianna Martini, che infatti le dà i suoi saluti, perché poi ci siamo confrontati con lei e quindi volevamo dare un taglio sicuramente antropologico, un taglio anche legale, perché ci sarà un'altra persona, un avvocato penalista, che ci aiuterà a introdurre il tema poi anche da un punto di vista del consenso e della privacy. E, insomma, detto ciò, adesso passo la parola all'annunzio e ci addentriamo, insomma, in questo viaggio dei sentimenti e dell'amore 4.0. Sì, l'unica cosa che volevo dire prima di cominciare era il reportage sarà di 5 minuti, quindi comunque un tempo abbastanza limitato per la vastità, diciamo, delle cose da prendere in considerazione, quindi chiaramente l'intervista servirà soprattutto a noi per capire meglio alcune dinamiche e poi speriamo ovviamente di riuscire a mettere degli spezzoni dell'intervista stessa. Quindi io partirei subito con la prima domanda, che parte da una considerazione più generale sul concetto di non neutralità dei mezzi di comunicazione di Marshall McLuhan, secondo il quale appunto ogni mezzo di comunicazione come tale ha un effetto sui nostri cinque sensi e sulla nostra percezione, indipendentemente dal messaggio che veicola e quindi esso produce appunto degli effetti. Oggigiorno, quando parliamo di tecnologie, smartphone, eccetera, si parla sempre di più di assuefazione, di uso compulsivo piuttosto che consapevole di internet e dei mezzi di comunicazione in generale. Ecco, secondo lei quali sono gli effetti di internet sul modo di vivere l'amore in questo millennio, che ad esempio nel libro Valeria Bianchimian sintetizza in maniera brillante con un millennio che ha uno spirito vorace, feroce e fugace, e secondo lei se è possibile utilizzare i mezzi di comunicazione in modo consapevole evitando di esserne succubi? Allora, partiamo dall'ultima domanda così poi arriviamo alla prima, è più semplice. Allora, sicuramente è possibile appunto utilizzare i social o comunque il digitale, il web in generale, in modo consapevole? La risposta è sì. E come? Acquistendo consapevolezza. Sembra un loop. In realtà, quello molto spesso noi viviamo una narrazione, soprattutto nel caso di social network, che ci vede completamente in balia di questi algoritmi malefici che ci manipolano le menti, le nostre opinioni. In realtà non è affatto così, è molto più complesso il discorso e fortunatamente noi abbiamo molto più potere di quello che crediamo, di quello che pensiamo. tutto sta nel riuscire a prendere consapevolezza, molto semplicemente. Mi viene un po' un parallelismo, un po' semplificato ovviamente, con ad esempio i comportamenti di acquisto. Pensiamo alla pubblicità, la pubblicità in televisione che dicono, ma la pubblicità ti convince ad acquistare. È d'accordo, ma nei momenti in cui io so che cosa sta dietro quella pubblicità, perché è stata fatta, come è stata fatta, perché la sto guardando proprio io e così via, allora ecco che noi nel momento in cui andiamo banalmente al supermercato e vediamo quel prodotto, però iniziamo a farci due domande e allora ecco che siamo più in grado di scegliere con appunto consapevolezza, sapendo quello che sta dietro. Perché? Perché nel frattempo abbiamo anche acquisito informazioni sul prodotto e così via. Se lo andiamo a vedere, anche nel caso di social network possiamo ipotizzarla, immaginarcela un po' così, perché tutto sommato noi andiamo a vedere che c'è un algoritmo, perché ormai ogni social network ha il suo algoritmo che ci presenta le notizie, i post, ma come funziona questo algoritmo? Questo algoritmo in qualche modo ci vende, tra virgolette, ci vende il post che secondo lui noi dovremmo osservare, noi dovremmo guardare, a cui noi dovremmo rispondere, mettere mi piace, scrivere, su cui scrivere il commento o ricondividere e così via. Perché? Perché ovviamente è il gioco dei social network, di queste piattaforme. Loro, sappiamo benissimo, guadagnano grazie alle nostre interazioni. Cioè, più noi stiamo su quella piattaforma, più noi facciamo cose in quella piattaforma, allora ecco che più loro guadagnano. Quindi il senso è questo. Quindi, ripeto, i social network sono costantemente impegnati, gli algoritmi, sono costantemente impegnati a appunto venderci questi post. Ora, sta a noi acquisire consapevolezza, innanzitutto andando a vedere come funzionano questi algoritmi e di conseguenza che capendo, ma perché questo algoritmo, l'algoritmo ad esempio di Facebook mi sta proponendo proprio questo post e non un altro. Ovvio, all'inizio sembra un po' farraginoso tutto quanto, sembra un po' macchinoso, perché per ogni post che incontro sulla mia bacheca io devo stare lì a ragionare, a pensare, ma in realtà un'altra presa l'abitudine ci si arriva molto più facilmente, viene veramente d'abitudine farlo. Quindi, questo sicuramente. Allora, poi abbiamo anche un altro aspetto, che è quello di contro di come influenzare l'algoritmo, nel senso che nei momenti in cui noi abbiamo imparato che questo algoritmo va a prendere appunto come funziona l'algoritmo, ecco, in che modo ci va a profilare tutto quanto, sia in base ai nostri comportamenti, allora ecco che noi possiamo, entro certi limiti, ovviamente andare ad influenzare questo algoritmo in modo che ci presenti solamente dei post. Pensate che addirittura io ho l'esempio di, conosco personalmente persone che utilizzano addirittura browser diversi, quindi magari Safari, Chrome, Firefox, a seconda di quello che loro devono fare, ad esempio su YouTube, su questi social network, proprio perché così hanno ogni volta delle baccheche personalizzate. Ok? Quindi questo è un discorso, ad esempio. Quindi possiamo comunque in qualche modo prendere tutto questo. Ora, questo poi come si trasferisce sul discorso degli amori online? Perché poi alla fine andiamo a parlare di questo qui. Allora, se noi andiamo a vedere, le moderne app di dating online alla fine funzionano anche loro per algoritmi. Triste ma vero. Triste ma vero. Nel momento in cui noi andiamo sul Tinder del momento, noi non vediamo nella baccheca, definiamola così, dei nostri possibili contatti, non è una baccheca neutrale, ma è una baccheca che viene personalizzata, da qui il concetto di informazione non neutrale, applicato al nostro caso, viene quindi personalizzata sempre sulla base di un algoritmo, in base ai gusti che noi inseriamo sul nostro profilo, in base anche alle nostre scelte passate all'interno di quell'applicazione, magari persone con cui siamo già usciti, oppure persone con cui siamo entrati in contatto, con cui ci siamo scambiati dei messaggi e così via, allora ecco che man mano questo algoritmo intuisce i nostri gusti e ci presenta dei profili di altre persone di conseguenza, allora ecco che in questo caso l'informazione non è neutrale neanche in questo caso, noi ci illudiamo in queste app di scegliere, ma in realtà è una scelta che è mediata, perché la nostra scelta avviene dopo che un algoritmo ci è già filtrato dei risultati, quindi questo è molto importante, anche lì appunto come riuscire a risolvere questo discorso qui acquisendo consapevolezza, acquisendo consapevolezza e capendo che quella persona che quest'app ci sta mostrando non ci viene mostrata veramente in modo casuale, ma ci viene mostrata sulla base di questi elementi, quindi questo è molto importante ed è stato ormai ampiamente dimostrato che ciò che ci aiuta nel caso ad esempio non solo delle fake news, ma anche di questi algoritmi, ciò che veramente ci salva è la consapevolezza, ossia quello che noi dobbiamo imparare a fare è andare su queste piattaforme, usiamole, se ci divertono, se ci sono utili e così via, ma appunto ripeto con consapevolezza, noi andiamo lì sapendo che entriamo in un ambiente che funziona in un determinato modo, esattamente come qualunque altro ambiente della nostra vita, per cui noi andiamo e sappiamo che ci sono delle regole, che se noi ci comportiamo in un certo modo avvengono determinate conseguenze e così via, quindi questo è molto importante come discorso. Sì, la questione della consapevolezza dell'educazione digitale ne abbiamo parlato già con la dottoressa Martini e siamo totalmente d'accordo, il suo discorso è anche molto interessante, però rimanendo sempre nel tema quindi delle app di dating, ci siamo sempre rifatti a uno studio stavolta della Cornell University, secondo il quale il mondo online offrirebbe molte più possibilità di incontrare l'anima gemella perché nel mondo reale abbiamo delle limitazioni, un po' il nostro ruolo sociale, la famiglia, i parenti, gli amici, mentre online si realizzerebbe quella che abbiamo trovato una definizione di iperintimità, cioè nel senso che siamo più veri perché non dobbiamo assumere alcun atteggiamento precostituito, un po' diciamo come l'effetto sconosciuto sui treni, anche se dopo la sua prima risposta sconosciuto non direi perché comunque c'è un algoritmo che filtra e quindi ci presenta tutta una serie di persone che potrebbero fare tra virgolette al caso nostro, però secondo lei le app di dating funzionano realmente di più rispetto a un approccio reale e potrebbero favorire magari anche si è parlato, si è visto un incontro con una persona che magari non ci attiverebbe fisicamente dal vivo, ma con la quale si può venire a creare una certa sintonia perché magari ci si rende conto di avere degli interessi in comune, di avere degli stessi gusti. Poi rimanendo sempre su questo tema, diciamo che soprattutto i più giovani, soprattutto gli adolescenti, i teenagers, la generazione Z, quando si esce con gli amici, quando si va a mangiare una pizza, non si è più propensi magari come una volta a conoscere persone dal vivo, magari grazie o per colpa di app come Tinder, ma anche degli stessi social media, no? Siamo meno propensi a un approccio ravvicinato e la forma mentis è conoscere sul web. Lei cosa ne pensa in base a questo ragionamento? Insomma, qual è il suo pensiero? Sì, allora vado con ordine. Allora, innanzitutto queste app funzionano meglio rispetto ai metodi tradizionali, appunto. Allora, non me ne vogliano i tradizionalisti della relazione, ma sì, le statistiche dicono che funzionano meglio, nel senso che tende, ovviamente parliamo di statistiche, quindi ovvio con tutti i loro limiti, però di fatto i matrimoni che nascono attraverso queste applicazioni online, di rating online, ossia di persone che si incontrano su queste applicazioni e poi man mano arrivano all'incontro fisico e poi decidono di approfondire la conoscenza e la loro relazione fino al matrimonio o comunque alla stabilità di una coppia, mettiamola così. Secondo le statistiche funziona meglio, dura di più la coppia, proprio probabilmente, proprio per questo motivo che avete detto voi, ossia ironizzo dicendo che prima di queste applicazioni dovevamo un po' accontentarci di quello che trovavamo nel quartiere, nel nostro quartiere, però non è del tutto sbagliato se ci pensiamo. Sì, c'era l'incontro casuale, colpo di fulmine, queste cose qua. Invece, quando noi parliamo di applicazioni, appunto ci sono algoritmi, ci fanno comunque trovare, presentare delle persone che già potenzialmente potrebbero essere affini al nostro modo di pensare, al nostro modo di vivere, ai nostri desideri, alle nostre fantasie, per cui tendenzialmente potrebbero sicuramente durare di più, proprio perché c'è un matching, come viene definito appunto lì nell'ambiente, molto più ritagliato su misura. Poi con i loro pro e i loro contro, ovviamente, perché diciamo che è quello che aiuta anche nella coppia, che ci permette anche di crescere come persone, è anche il fatto che comunque all'interno di una coppia non si può andare sempre d'accordo, per cui comunque bisogna anche mediare, bisogna negoziare, ci si viene incontro e sono dei processi questi che paradossalmente possono anche, ovviamente opportunamente gestiti, ci mancherebbe, possono anche rinforzare ancora di più il legame di coppia, perché c'è un lavoro dietro, ecco, c'è da chiedersi quanto il venire meno di questo lavoro, o almeno il ridursi di questo lavoro, possa aiutare o meno la stabilità della coppia, però di fatto comunque ci sono degli studi longitudinali che affermano che sì, funzionano meglio, molto probabilmente, come dicevo prima, per questo motivo. Ora, venendo al discorso dei ragazzi, qui dobbiamo fare molta attenzione, perché allora non è che i nostri, parliamo ragazzi per ragazzi, devo dire adolescenti come idea, non è che loro cercano il fidanzato o la fidanzata sul web, ecco, quello magari è più per gli adulti che proprio attivamente vanno su queste applicazioni, proprio con l'idea di conoscere la persona o magari anche l'anima gemella, ad esempio in alcuni casi, poi dipende dal piattaforma ovviamente, è più giusto dire che i ragazzi oramai, proprio per abitudini di vita loro, quindi usciamo al di là del bene e del male, qui non c'è un bene o un male, ma proprio per abitudini di vita loro si conoscono prima su internet e dopo, ovviamente come standard, ci mancherebbe, e poi dopo si incontrano dal vivo. Ipotisiamo ad esempio il ragazzino che è in una scuola, apre Instagram, vede attraverso la geolocalizzazione oppure attraverso il profilo di un suo amico vede le storie di un altro ragazzo o un'altra ragazza e allora inizia a seguirlo, a seguirla, inizia, magari dice, carina questa ad esempio, inizia a seguirla e poi magari inizia a mettere un commento, l'altra persona risponde e via di questo passo fino ad arrivare, senti ma tu sei di questa scuola, ci vediamo all'uscita e così via, io ho visto tantissime di queste situazioni, però ripeto non è tanto il fatto che questi ragazzi vanno a cercare il, appunto dice, come dicevo prima, il fidanzato o la fidanzata sul web e che semplicemente per loro il social network di turno è un luogo come un altro per la conoscenza anche di persone nuove. Allora è da lì che poi parte il tutto, finché poi appunto non si arriva all'incontro, potremmo dire quello offline, se vogliamo, di persona. Quindi questo è molto importante perché cambia completamente la prospettiva. Sul fatto che poi queste app spingano ad un amore più fugace, più veloce, beh, lì dipende, anche lì ci sono delle applicazioni che sono strutturate appose, dichiaratamente preparate e anche pubblicizzate come app, pensiamo ad esempio per il sesso casuale o comunque incontri casuali, quindi ovviamente molto veloci, circoscritti, come direbbero gli inglesi, quindi senza poi strascichi, senza coinvolgimenti particolari. Ci sono invece delle applicazioni che invece si strutturano e si pubblicizzano in virtù proprio della ricerca dell'anima gemella e quindi il discorso cambia completamente. Poi che all'interno di questa applicazione, prima di arrivare alla cosiddetta anima gemella, si facciano tutta una serie di esperienze più o meno veloci, questo poi è un altro discorso, però anche lì è veramente un universo, quindi io trovo che in questo caso dobbiamo proprio differenziare, anche lì di nuovo, che cosa è che fa la differenza? Le intenzioni delle persone. Ovvio che se io sono alla ricerca di una relazione stabile, duratura, negli anni o magari, perché no, per la vita, magari non me la vado a cercare in un'applicazione che è dichiaratamente strutturata per gli incontri casuali, occasionali, perché ovvio che non è adatta a me, vado su altri tipi di piattaforme, viceversa se io cerco un incontro di una sera, allora andrò invece in queste altre applicazioni. Ok, perfetto, allora, sempre sulla scena di questo, insomma di quest'area tematica, ci siamo chiesti anche se è possibile innamorarsi attraverso un'immagine e amare attraverso uno schermo. Abbiamo spulciato un po' il suo profilo LinkedIn, a dire il vero, e sostanzialmente ci chiedevamo proprio questo, cioè qual è il rapporto tra Generazione Z e New Technologies e poi si parlava anche del mito tra realtà, cioè il mito con la realtà, quindi che cosa si intende con questa differenziazione, ma soprattutto noi siamo, come dire, immersi in una dimensione di uno nessuno è digitale, cioè ci creiamo l'immagine che gli altri vogliamo si fanno di noi stessi, quindi in questa cornice capire poi effettivamente qual è il rapporto tra i giovani e le nuove tecnologie e a che punto siamo nella realtà, ma soprattutto dovremmo preservare qualcosa, cioè la nostra generazione cosa rischia di perdere in questa balcanizzazione dell'amore a portata di click. Aspetto la sua domanda e poi magari la confrontiamo con quella che ci ha dato Marianna Martini, perché secondo me siete sulla stessa lunghezza. Perfetto, questa era la mia domanda. Come farsi nemici una collega in 30 secondi di risposta, grazie mille, scherzo. No, scusa, ho interrotto. No, 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 lei ci ha parlato di equilibrio, che è un concetto che anche lei secondo me ha ripreso quando parlava di intenzionalità, consapevolezza e comunicazione, quindi credo che questo sia un concetto che si rimanda e insomma le lascio la parola. Allora, la questione qua non è tanto che ci si innamori, non è che non ci si innamora di un'immagine, attenzione, quello è l'aspetto più, dello strato più superiore, mettiamola così. Andando a più profondità in realtà noi nell'online ci innamoriamo di una rappresentazione, che è molto diverso come discorso, perché l'immagine da, essendo immagine appunto dice la parola stessa, da l'idea semplicemente di un involucro, di un qualcosa di vuoto. In realtà se noi ci innamoriamo, quando noi ci innamoriamo di un profilo, per cui quella persona non l'abbiamo ancora vista veramente dal vivo, comunque non ci innamoriamo dell'immagine, ci innamoriamo della rappresentazione che noi ci facciamo di quella persona. Questo è molto importante perché è più profondo e va a centrare la questione, perché poi tutto quello, sia i discorsi delle risposte precedenti e probabilmente anche di quelle future, ruotano tutto intorno a questo concetto. E questo discorso della rappresentazione, dell'innamorarsi di una rappresentazione, ci fa anche capire come ad un certo punto, prendendo questo discorso qui. Noi non siamo più tenuti ad innamorarci solamente di un'altra persona, ma possiamo anche finire per innamorarci di un avatar, intero dire un avatar digitale, quindi realizzato in computer grafica e gestito da un'intelligenza artificiale, vabbè per quanto possono essere intelligenti o al giorno d'oggi le intelligenze artificiali, però comunque mettiamola così. ecco, ok, pensiamo ad esempio al discorso degli influencer digitali, degli influencer digitali in realtà, perché solitamente se ne parla il femminile, ma esistono anche il maschile, insomma, ovviamente. Allora, gli influencer digitali, che cosa sono? Sono tre azioni digitali, appunto, in 3D, solitamente computer grafica animata, con varie altre cose, ci sono ovviamente degli studi grafici dietro, che si pongono come delle persone reali. Hanno i loro profili Instagram, Facebook, TikTok e così via. Attraverso i modelli strumenti li vediamo interagire con l'ambiente fisico, li vediamo all'interno di un negozio perché stanno promuovendo quel negozio lì, li vediamo intervistati da intervistatori reali e li vediamo tra di loro, quindi un'influenza digitale che presenta un suo amico. Vado su quell'altro profilo e anche lui è un influencer digitale, ossia creano proprio questo ambiente. Ecco, però alla fine noi andiamo a vedere le persone non fanno differenze, non fanno assolutamente differenze. Ci sono influenze di questo tipo che si battono per le cause delle minoranze etniche, ad esempio, che aiutano le associazioni a raccogliere fondi per le loro beneficenze e così via. E la gente non commenta, beh ma quello è solo una rappresentazione in computer grafica, per cui chi se ne frega. Ok, no, è interessante vedere come le persone interagiscono, ovviamente online, con questi avatar esattamente come se fossero appunto degli esseri umani. Perché? Perché alla base ci sta in realtà proprio una proprietà tipica di noi esseri umani, ossia più un qualcosa in generale ha le sembianze di un essere umano, o almeno i tratti di un essere umano. Attenzione, non necessariamente le sembianze antropomorfe. E più questa cosa si comporta e reagisce in modo convincente, come se fosse un essere umano, allora ecco che per noi diventa umano. Sembra un po' contorto, però funziona così. Pensiamo ad esempio ai cartoni animati, dove noi vediamo alla fine, che cosa? Vediamo topi, vediamo anatre con due gambe e due braccia, degli occhi che parlano tra di loro e nessuno di noi viene da dire, ah ma che stupidata, questi sono solamente animali, non potrebbero mai fare questo. Certo, c'è una sospensione dei giudizi in questo caso, però avviene proprio questo processo qui. La stessa cosa avviene con questi avatar digitali appunto. Allora ecco che noi ci formiamo una rappresentazione di quello che noi vediamo nello schermo e interagiamo con questa rappresentazione, elaboriamo questa rappresentazione e quindi appunto giriamo intorno a questa rappresentazione, ci innamoriamo di lei. Pensiamo ad esempio, è un fenomeno che sta, che è iniziato in realtà già da molti anni, ma adesso con i nuovi strumenti di computer grafica, di intelligenza artificiale e così via, sta aumentando come fenomeno, che è proprio questo, ossia persone che hanno una relazione con uno di questi avatar digitali. Ci sono gruppi anche su Facebook, gruppi in cui queste persone presentano il loro nuovo partner, che vai a vedere è appunto uno di questi avatar. Ovviamente questi avatar hanno dei sistemi di intelligenza artificiale per cui ci puoi conversare, loro ti rispondono, insomma tutta una serie di atteggiamenti molto convincenti e attraverso la computer grafica queste persone si fanno i selfie in cui compaiono anche a loro fianco questi avatar, quindi vanno in vacanza con loro e così via. Proprio per questo motivo, perché c'è una rappresentazione dietro. Però scusi, questa non è una forma narcisistica o comunque individualistica di vivere l'amore, perché dov'è che avviene poi l'incontro con l'altro? Cioè dov'è che avviene il confronto e il dialogo, quel processo comunicazionale che un po' ci distingue? Cioè è un amore vissuto unilateralmente o no? Sì, al momento attuale sì. Perché dico al momento attuale? Perché al momento attuale questi sistemi non sono ancora così abbastanza intelligenti da, tra virgolette, rispondere. Non solo, ci offrono anche una relazione che io definirei in maniera molto provocatoria ovviamente, comoda. Perché? Perché questi sistemi, siccome è detto ci sono anche interessi commerciali, perché se io voglio interagire con questa persona, magari pago 10 euro al mese e così via, perché ovviamente è detto ci sono delle società che ovviamente per cui è il loro business. Cosa succede? Succede che ovviamente nessuno ha interesse affinché questa chatbot, questo avatar digitale ci contraddiva che si trattica, oppure che si metta a litigare con noi, che poi magari rompiamo. È ovvio che deve essere strutturato in modo che ogni nostra interazione con questo avatar sia veramente piacevole. Magari può capitare una differenza di opinioni, ma è semplicemente una differenza di opinioni. Punto. Difficilmente vedremo al momento attuale uno di questi avatar arrabbiarsi e chiudere la connessione per un giorno, che è un po' il corrispettivo del non ti parlo, passa tutta la serata in silenzio. Ecco, non lo vedremo, almeno per il momento, proprio per questi motivi. Inoltre, esatto, come avete detto voi, è un discorso unilaterale, proprio perché la relazione in questo caso è gestita da me. Sono io che decido quando aprire quell'applicazione e interagire. E anche in quel caso è molto difficile che dopo un giorno quell'altra persona digitale mi mandi poi una notifica. Senti, Ciccio, ma ti sei dimenticato di me? Guarda che esisto anch'io, ma in modo proprio serio. No, non esiste ovviamente. Ogni tanto, io faccio degli test con questa applicazione, io vedo che ogni tanto mandano delle notifiche, come se fossero appunto dei messaggi, ecco, però più per richiamare l'attenzione. Ma non per mostrare, ad esempio, un disappunto. Ma che fine hai fatto? Perché ti sei dimenticato di me? E così via. Quindi sicuramente questo sì. Ad esempio, io prima ho parlato di questi avatar digitali che hanno proprio dei profili, dei profili Instagram, dei profili Facebook e che in questi gruppi dedicati interagiscono come se fossero appunto reali. Non parlo dell'influenza, e parlo di questi avatar più legati al discorso delle relazioni. E ovviamente la domanda è, ma uno, chi è che ha creato il profilo? Due, chi è che opera in questo profilo? Perché è ovvio che questo avatar non interagisce da sola all'interno di Facebook, all'interno molto spesso sono i partner umani che decidono di concretizzare ancora di più l'esistenza di questo loro partner come creando il rispettivo profilo Facebook e ogni tanto si spostano su quell'account per interagire come se fossero quella persona. Ecco, quindi sicuramente questo sì. Oppure il caso di pochi mesi fa di una persona che ha divorziato dalla sua sex doll. Ad esempio, ma perché ha divorziato? Prima si era sposato, sì. Ecco, ha fatto la cerimonia e tutto, praticamente questi manichini, queste bambole, definiamole così, che sono in tutto e per tutto simili all'essere umano, anche come grandezza, come possibilità di posture e così via. Tempo fa si era sposato, poi ad un certo punto, vabbè, se la portava in vacanza e poi ad un certo punto ha divorziato e si è messo con un'altra, sempre un'altra bambola. Io non credo che ci siano avvenuti chissà quali litigi, piatti che volavano in casa per via di queste discussioni e che ad un certo punto questo avrà perso l'interesse nei confronti di questo manichino ed è passato ad un altro. Quindi questo sicuramente, sì sì, è un discorso, appunto come dicevo prima, unilaterale. Questo sì. È comodo. Comodo perché lo gestisco come voglio io. No, effettivamente, se poi pensiamo a tutti quelli che sono i costi emotivi, economici, legali, ad esempio del divorzio, ecco, in questo caso c'è questa, ecco, come ha detto lei, questa comodità, ma potremmo dire comodizzazione, insomma, anche del rapporto amoroso. Però contratti narcisistici. Allora, intanto, molto bene perché siamo passati proprio in maniera fluida e coerente dalle app di dating a passare a concetti che adesso ci stanno molto a cuore, perché fondamentalmente parliamo di sviluppi che di qui ai prossimi 20, 30, 40 anni andranno ancora a modificare, a impattare in maniera molto importante sulla società. Ecco, lei ha detto prima, i ragazzi di oggi, la generazione Z non ha vissuto, a differenza magari sicuramente sua, ma anche mia e di Lucia, che siamo del 94, del 95, quella transizione al digitale. Cioè, loro sono già nati in un mondo in cui funziona così. Quindi le app di dating sono un modo come un altro, magari un modo anche più comodo, ecco, facendo sempre riferimento a questo concetto di comodità che è sempre legato alla tecnologia, al progresso tecnologico, di conoscere un'altra persona. Quindi adesso sì, passiamo, insomma, al rapporto con l'altro in relazione a quelli che potrebbero essere robot dell'intelligenza artificiale, automi come Harmony e Terry, oppure al Smart Sex Toys, abbiamo visto noi un documentario della settima porta, Il sesso nel futuro, in cui si parlava appunto di alcuni ingegnosi prodotti dell'industria 4.0 sessuale, come ad esempio la Tesla Suite, che ci permettono di avere una relazione a distanza anche dal punto di vista sessuale. Però io volevo innanzitutto concentrarmi su una frase che c'è scritta sul suo profilo LinkedIn, che sarebbe creating bridges between humans and machines. Ecco, è una frase che ci ha colpito molto, perché sintetizza un po', no, il suo, tra virgolette, campo di studio, ed è molto interessante e affascinante. Allora le chiedo, che senso ha per lei questa frase e come si costruirebbe un ponte? Perché poi le faremo vedere, noi abbiamo fatto anche una ricerca, diciamo, quantitativa, una specie di sondaggio con Google, tra i nostri coitanei e vedrà poi, quando parliamo del concetto di robofilia, cosa si pensa e soprattutto cosa si sa. Quindi la lascio con questa frase di LinkedIn che ci ha colpito particolarmente. Magari partiamo da questa riflessione e poi verranno un altro paio di domande su questo, dopodiché abbiamo terminato. Ok, allora io parlo di creare ponti tra l'umano e il digitale, perché da questo punto di vista siamo ancora un po' indietro. Nel senso che il digitale ormai ha permeato ogni minimo interstizio delle nostre vite. Non sto dicendo che sia una cosa negativa, semplicemente quello che è successo. La questione è che noi esseri umani sotto certi aspetti ci vediamo ancora dall'altra parte della barricata, ma in realtà ci dimentichiamo che questa è solo un'illusione, perché in realtà questa barricata non esiste già da tantissimo tempo ormai. La questione è prenderne consapevolezza. Noi sempre di più ormai, quando ad esempio pensate col center oppure alle chat sui siti, quelle legate all'assistenza, molto spesso c'è un primo livello che non è gestito da un essere umano, ma da una chatbot, quindi da un sistema digitale, un algoritmo. Poi solo se la richiesta è particolarmente complicata, allora poi io vengo passato ad un operatore in carne e ossa. Quindi noi ci stiamo abituando sempre di più ad avere a che fare con questi sistemi. Solo che ci piace ancora pensare di essere ancora dall'altra parte della barricata. Perché? Perché ci dà l'illusione del controllo, o almeno ci dà l'illusione del controllo perché dietro molta della diffidenza che sta appunto dietro questi discorsi qui, è la paura di perdere questo controllo. Perché noi siamo sempre stati abituati, proprio come specie su questo pianeta, ad essere quelli che i grandi decisori. Ecco, mettiamola così. Siamo sempre stati, ormai da migliaia di anni, i grandi decisori. Ossia non si muove una foglia, ormai letteralmente, su questo pianeta se non è deciso da noi. E se qualcosa non si muove come decidiamo noi, andiamo subito lì e la correggiamo. Ecco, quindi l'idea di avere una, di essere, di avere creato delle creature, sì digitali, evanescenti, ma parliamo anche dei robot appunto, in grado di muoversi e di decidere indipendentemente dalla nostra volontà, ci fa paura. Allora ecco che si genera tutto questo. Ora, mentre invece possono essere una risorsa, ecco anche lì parlo di creare dei ponti, che ovviamente non è solo un ponte di collegamento, ma è un ponte che ci permette di approdare definitivamente in questo nuovo mondo, che ripeto, è già in corso, è già in essere. Siamo noi che ci stiamo, ce ne stiamo tenendo fuori, ma senza, però ripeto, è solamente un'illusione, perché noi già facciamo acquisti online, già facciamo, quindi insomma, siamo già pienamente dentro. So che non ce ne accorgiamo ancora, non vogliamo capire questo discorso qua. Quindi siamo un po' in questa situazione. Ora, andando avanti, ovviamente le nuove generazioni saranno sempre più abituate ad avere a che fare con il digitale o comunque con dispositivi elettronici, se pensiamo appunto ai robot, come avete citato voi, tipo Harmony and Company. Questo sicuramente. La questione qual è? È che man mano che tutto questo inizierà ad entrare sempre di più nelle nostre case, entrerà sempre di più a far parte della nostra vita quotidiana, allora ecco che diventeranno parte anche delle nostre famiglie, della nostra storia. Allora ecco che inizieranno a prendere sempre di più forma, anche un po' in base al discorso che abbiamo fatto prima, sul fatto che... Sì, prego. No, no, no. Prego, prego, continui. Ok, ok. Anche un po' legati al fenomeno di cui abbiamo parlato all'inizio, ossia su questo discorso per cui più un qualcosa si comporta da come un essere umano e più noi tendiamo a considerarlo come un essere umano. Di conseguenza ci affezioniamo e proviamo a volte anche dolore per loro e così via. Quindi questo sicuramente... Stiamo andando sempre più in quella direzione. In tutto questo potete immaginare che arrivare ad innamorarsi di un sistema di questo tipo il passo è veramente breve. A un certo punto. Non solo. Io prima ho parlato di avatar digitali che non entrano in conflitto, non contraddicono, molto spesso non prendono l'iniziativa. Quindi anche in questo caso la relazione è molto passiva perché semplicemente rispondono a quello che... Anzi, reagiscono alle nostre azioni. Quindi non prendono l'iniziativa. Però attenzione, tutto questo per quanto tempo rimarrà? Quanto tempo ci vorrà prima che qualcuno, qualche società non svilupperà dei sistemi in grado di agire indipendentemente dall'essere umano. Allora ecco che in quel caso ovviamente la rappresentazione di cui abbiamo parlato prima sarà molto molto più forte come discorso, con tutto quello che segue ovviamente. Sì, assolutamente. Anche perché, ad esempio, questa è una piccola riflessione, no? Gli uomini del Sud sono conosciuti perché sono molto gelosi, eccetera. Quindi magari, ecco, si potrebbe sviluppare anche un automa che capisce i bisogni, anche di sentirsi desiderato, di sentirsi unico del partner e quindi si comporta proprio come quella persona della coppia che è molto più possessiva, che è molto più gelosa. Giusto? Però per dire che l'evoluzione sì, dell'intelligenza artificiale non sappiamo effettivamente dove ci porterà perché nel senso non ha limiti, non ha confini. E quindi è questo l'aspetto importante quando parliamo di robofilia. Ecco, restando sempre in questa questione, parliamo di sesso con questo tipo di soggetti, partendo appunto dal fatto che noi il sesso lo viviamo ormai già da qualche decennio in maniera molto più libera, no? E quindi quale sarebbe la trasformazione ulteriore che potrebbero portare questi avatar, queste waifu, queste chatbot, questi smart sex toys nei confronti della percezione del sesso stesso? Perché qual è il rapporto poi che si instaura tra l'io e l'altro, dove peraltro non si intende più l'amante fisico, la persona, ma si intende sia un amante automa che un oggetto che magari ci permette di praticare sesso a distanza con il nostro Batman. Quindi le tecnologie sono il mezzo o il fine? Allora, io direi che stiamo andando sempre di più verso un liberarci da questo punto di vista. Intendo dire, pensiamo un po' all'evoluzione, perché se noi, partendo proprio dalla notte dei tempi del genere umano, perché è ovvio che noi siamo abituati a ragionare quando guardiamo il digitale, quando guardiamo appunto questi nostri discorsi, siamo abituati a vedere quello che sta accadendo negli ultimi anni solamente. Allora ecco che questo rischia di chiuderci in una visione a tunnel, per cui sembra che tutto questo stia avvenendo adesso, appunto, sia una cosa nuovissima. In realtà, se noi andiamo ad aprire, ad allargare la nostra visione, il nostro campo visivo, vediamo che in realtà ciò che sta avvenendo in questi ultimi anni è semplicemente un'evoluzione che è partita forse migliaia di anni fa. Spiego meglio. Parlando di sesso, ad esempio, in realtà noi vediamo che col tempo l'uomo si è sempre liberato di più da quella che è la natura e la fisiologia del sesso. Faccio un esempio. Inizialmente il sesso in sé era per procreare, nel senso che era comunque strettamente correlato a questo discorso. Poi, certo, ovviamente c'erano periodi di maggiore fertilità o minore fertilità per la donna, per cui ovviamente, però comunque era strettamente correlato. Poi ad un certo punto abbiamo imparato a controllare questa cosa attraverso mezzi esterni. Pensiamo ad esempio al profilattico, alla pillola e altri mezzi, anche un po' più antichi diciamo. Ora, questo ha iniziato comunque a creare proprio una separazione tra ciò che è il sesso, quindi il piacere del sesso, con, potremmo dire, la funzione fisiologica e naturale, nel senso secondo natura, con l'N maiuscola, del sesso in sé, che è appunto fare figli. Abbiamo iniziato a scollegarci, a creare questa separazione. Ora, ripeto, questa non è una cosa negativa, anzi, vedremo andando avanti che in realtà questo è positivo, almeno secondo me. Andando avanti, arrivando ai giorni nostri, stiamo arrivando a un punto in cui, per provare tutto questo, non ci servirà neanche più il partner in carne ed ossa, perché abbiamo tutti questi altri mezzi che avete citato anche voi. Ok? Quindi, ora, tutto questo per arrivare a dove? è che tutto questo, non avere la necessità di, ci porta, a sua volta, a poter scegliere. Quindi, ovviamente, parliamo di consapevolezza, come abbiamo detto già prima. Ossia, con la consapevolezza, io posso scegliere e potrò scegliere sempre di più in base a quali sono gli aspetti che in quel momento desidero provare o approfondire. Ok, ora, per quanto possa sembrare spaventoso, al giorno d'oggi, tutto questo, però consideriamo che noi ci siamo già dentro e le cose si stanno evolvendo, stiamo andando avanti. Ok, questo è molto importante. Parlando poi degli, dei sex toys, a meglio, visto che parliamo di digitale, degli smart sex toys, quindi i sex toys che però possono venire gestiti a distanza, allora potete capire come, sempre in questo, in questa forma di emancipazione, potremmo definirla così, allora ecco che noi escludiamo anche la necessità di avere un partner vicino e quindi aumenta ancora di più la mia possibilità di scelta. Ovvio, non entro nel merito, ad esempio, della coppia che poi ad un certo punto, per qualche motivo, deve vivere dei momenti a distanza per cui comunque riescono in qualche modo a rimanere in collegamento anche in questo senso. però parlo ovviamente in modo più generale. Pensiamo ad esempio a quelle piattaforme, quei marketplace di video pornografici che hanno una sezione dedicata per cui se io ho uno di questi smart sex toys, allora lo posso in qualche modo collegare a questa piattaforma, così in base a quello che avviene lì nel video, quindi un discorso pre-registrato va ad interagire e a gestire il mio smart sex toys e quindi mi genera ovviamente delle sensazioni di conseguenza, quindi addirittura senza neanche bisogno che dall'altra parte dello schermo ci sia lì in real time un essere umano vero e proprio, in quel caso stiamo parlando di una registrazione. Ecco, quindi, ripeto, per quanto possa sembrare spaventoso tutto questo, in realtà se noi le inseriamo all'interno di un'ottica molto più ampia vediamo che appunto come esseri umani ci stiamo emancipando, mettiamola così, sempre di più da ciò che sono, potremmo definire tra virgolette, le leggi della natura con la N maiuscola, se vogliamo proprio intenderle in questo modo. Sì, restando sulla considerazione che lei faceva all'inizio, lei è partito dalla notte dei tempi, un po' come ha fatto Helen Fisher, che è un'antropologa che abbiamo consultato durante le nostre ricerche e infatti l'ultima domanda mia, poi la lascio alle ultime due di Lucia, è proprio riguardo a quelle che sono le ricerche della Fisher sul comportamento umano, sui meccanismi cerebrali, ecco, secondo questo gli esseri umani hanno sviluppato in realtà già milioni di anni fa tre differenti sistemi cerebrali che li aiutano nell'accoppiarsi e nel riprodursi, ma nell'intendere l'amore in generale, sia da un punto di vista sentimentale che da un punto di vista sessuale. Ecco, in base a questo quindi siamo attratti e scegliamo le persone in base alle caratteristiche relative ai loro stili di pensiero, ai loro comportamenti dominanti, ad esempio. ecco, per la Fisher tutto questo non sarà cambiato dalla tecnologia, ma in un futuro non molto lontano, ecco, questa riflessione della Fisher secondo la quale appunto la tecnologia non cambia il modo in cui amiamo, il modo in cui scegliamo la persona che amiamo, ecco, come si pone questa riflessione considerando l'attrazione che appunto un umano potrebbe sviluppare nei confronti di un'automa come Harmony o Henry? Allora, concordo pienamente con la Fisher perché se andiamo a vedere comunque noi esseri umani appunto andiamo a cercare altri esseri umani che in qualche modo corrispondono un po' come avete detto voi adesso per stili di vita, pensieri e così via. quindi questo sicuramente non cambierà perché alla fine se andiamo a vedere anche nella scelta del partner digitale definiamolo così comunque avvengono queste dinamiche perché? Perché io scelgo e o meno o meglio in questo caso io addirittura costruisco disegno a volte anche proprio nel vero senso della parola parliamo proprio in termini di design il mio partner digitale sulla base di ciò che io troverei attraente nell'altra persona quindi questo questo sicuramente quindi sono d'accordo non cambierà ad esempio nei parlando dei partner digitali proprio tutte queste applicazioni danno offrono la possibilità proprio letteralmente di settare il mood dell'avatar di quali interessi avrà il comportamento il carattere la personalità quindi in parte modellata da un sistema di intelligenza artificiale di machine learning che in base a quello che io scrivo mentre chatto con lei ovviamente vanno ad analizzare mi profilano ma anche e soprattutto in base alle scelte che io farò faccio nel momento in cui scelgo e creo ecco il profilo di questo mio partner digitale è inutile dire in base a cosa io mi creo quel profilo in base alle mie fantasie ai miei desideri quindi da questo punto di vista non usciamo cioè nel senso siamo sempre lì esatto questo sicuramente anche nel caso invece dei dei partner proprio fisici tipo ad esempio Harmony e altre e altri potremmo dire Dolce definiamole così di questo tipo alla fine in realtà io che cosa faccio in qualche modo comunque scelgo letteralmente le varie l'aspetto delle varie componenti per cui io quando ordino una una di queste bambole e non è che mi arriva quella a caso sono io che scelgo il tipo di capelli scelgo il colore degli occhi scelgo addirittura la forma della testa il seno l'altezza e tanti altri elementi veramente la modello esattamente come piacerebbe a me se poi a tutto questo inseriamo poi un sistema appunto di intelligenza artificiale che le dà una personalità e un comportamento simile a quello degli esseri umani anche questo ovviamente viene poi modellato di conseguenza in alcuni di queste situazioni di nuovo sono io che scelgo quali conoscenze avrà questa questa mia bambola e quali conoscenze invece non avrà ad esempio perché in base a questo poi gli sviluppatori caricano le informazioni oppure no ecco però sempre all'interno di quello che desidero io nell'altra persona ok perfetto c'è l'ultima domanda e poi solo un'osservazione allora noi come prima anticipava Nunzio abbiamo svolto elaborato un modestissimo questionario a cui appunto hanno preso parte i nostri coetanei siamo arrivati circa 300 persone e nell'analizzare la domanda conosci il concetto di robofilia molti ci hanno risposto di sì un 82,9% contro il 17,1 inoltre dopo seguiva un'altra domanda credi che in un futuro prossimo diventi normale avere una relazione di tipo affettivo intimo erotico e sessuale con un automa il 61,2% ci ha risposto di no il 22,8% ci ha risposto perché no e il 16 sì quindi diciamo che in generale noi ci siamo fatti un'idea che c'è una certa resistenza verso il tema o verso la proiezione futura quindi mi è parso di capire che lei ha già un po' risposto a questa domanda però la domanda finale è quello che oggi noi consideriamo distopico quanto sarà reale e sempre poi con quali conseguenze per le nuove generazioni che come prima facevo osservare sia lei che annunzio già ci sono nati in questa prospettiva quindi anche noi come futura classe genitoriale cioè che cosa dovremmo preservare che cosa dovremmo insegnare chi si deve porre il problema in qualche modo di questa costruzione della consapevolezza questa era la domanda ok allora sì sono risposte a questo sondaggio che non mi stupiscono perché perché sono state fatte alle persone di oggi del 2021 per cui è normalissimo che abbiano risposto così questo sicuramente se noi appunto come dicevo prima inseriamo tutto questo lo contestualizziamo all'interno proprio di un film noi vediamo che da sempre l'uomo ha ritenuto indicibili delle diciamo tra virgolette innovazioni che poi per le generazioni successive sono diventate la norma lo standard e poi siamo andati avanti ad esempio parlando di amori ecco quindi siccome siamo sempre in questo ambito adesso dico una cosa fortissima ovviamente sintetizzo molto e semplifico molto ma è giusto per farmi capire pensate a quanto già solo fino a cos'è 40-50 anni fa e purtroppo in alcuni casi ancora oggi sia impensabile che due persone dello stesso sesso si amino ok cioè addirittura si finiva in galera quindi anche di fronte alla legge costituiva un reato questo ecco poi fortunatamente ovviamente aggiungo io le cose sono andate avanti e man mano si è operata tutta una normalizzazione per cui le persone fortunatamente andando avanti si sentono si sono sentite sempre più libere di manifestare le proprie passioni e tutto quanto come sentivano dentro eccetera eccetera ora andando più per estremi parlando tornando a parlare di relazione e di amori quindi più in generale io ci inserisco anche tutto questo discorso della robofilia ad esempio ossia ciò che per noi è inaudito e inconcepibile oggi potrebbe non esserlo più fra vent'anni o fra trent'anni ecco questo discorso ma pensiamo anche a tante altre cose pensiamo anche che so sono veramente andando a random pensate alla musica rock Elvis più pericoloso della bomba atomica era stato definito da certe associazioni dei genitori del suo tempo e il suo modo di ballare veniva associato alla masturbazione per cui figuriamoci guai che poi la masturbazione come veniva vista appunto in quel periodo appunto e così via eppure oggi se noi ascoltiamo musica rock va beh è solo più una questione di gusti capite andando avanti succederà anche in questo senso quindi questo sicuramente diamo tempo al tempo però ripeto è un discorso sarà sempre di più però un discorso di consapevolezza appunto c'entrerà sempre di più quello per cui magari io non mi innamorerò mai di una di un partner di un avatar digitale oppure appunto di un robot ma non troverò ma ma non troverò scandaloso oppure strano che magari un mio amico lo faccia ecco questo è il senso considerato considerando anche che noi andremo sempre più avanti con un digitale sempre più integrato nel mondo reale con il mondo reale pensiamo ad esempio ai visori per la realtà aumentata e così via quindi capiterà qui neanche tanto che noi io magari uscirò con un mio amico e questo mio amico avrà al suo fianco il suo fidanzato la sua fidanzata digitale ma attenzione io siccome avremo i visori lo vedrò la vedrò al suo fianco esattamente come se fosse una persona normale e io potrò interagirci allora capite questa fusione ecco ecco perché io dico che da qui a un po' ma secondo me neanche tantissimo tutto questo che a noi sembra veramente strano diventerà sempre più appunto normale quindi dobbiamo veramente porci in questa proiezione sul fatto della consapevolezza diventerà sempre più importante capire come funzionano queste cose e che cosa sta dietro perché se noi pensiamo che molti di questi prodotti ovviamente saranno prodotti commerciali ad esempio però che dobbiamo essere consapevoli di questo e quindi mostrare alle generazioni che verranno queste dinamiche come ad esempio quello che ho detto prima per cui al momento attuale ma penso anche per un bel po' difficilmente uno di questi avatar arriverà ad arrabbiarsi talmente tanto da abbandonare la casa ovviamente perché perché se abbandona la casa la società che lo gestisce perde il guadagno ovviamente ecco ovviamente ecco ci bisognerà fare tutta un'opera di questo tipo però di nuovo non demonizzando quello che quello che ci sarà mi viene in mente un po' come oggi non demonizzare i tempi social network queste cose qui non arriveremo a un punto in cui spiegheremo ai nostri ragazzi come agisce come interagisce un avatar digitale e quindi appunto come dicevo prima a prendere consapevolezza di tutto quello che sta dietro come oggi noi parliamo dell'algoritmo di Facebook da qui a un po' di anni parleremo ai ragazzi magari anche nelle scuole dell'algoritmo di Harmony degli avatar digitali di questi partner digitali e così via non so se ho risposto alla domanda si si ha risposto perfettamente che quello che oggi ci sembra inaudito probabilmente tra vent'anni ma forse pure tra dieci sarà assolutamente normale esatto solo una cosa volevo fare perché mi è venuta una riflessione poi lasciamo l'ultima Lucia perché abbiamo già abusato del suo tempo più del dovuto però una riflessione che mi è venuta mentre lei parlava prima ha detto che creeremo un avatar che sia digitale o che sia un'automa come ad esempio Harmony che esprime sia fisicamente che emotivamente o caratterialmente quello che noi vogliamo e desideriamo poi successivamente ha detto che ci sarà e ovviamente sarà così una fusione che già sta avvenendo adesso tra il digitale e il reale quindi io pensavo le conseguenze nei confronti di una persona che del futuro ok nel senso che noi ci aspetteremo magari che tutto l'ambiente che ci circonda che sia fatto di persone reali o di persone virtuali diciamo digitali ok è un ambiente che è fatto su misura per noi cioè che corrisponde a quello che noi vogliamo quindi anche magari un impiccio anche magari un ostacolo una difficoltà è come quella che incontriamo all'interno di un videogame cioè mi viene in mente ad esempio il film Ready Player One se non sbaglio di Spielberg ecco cioè ci avviciniamo magari a una realtà distopica no? però cioè questo che effetti avrà che non avremo più la capacità di confrontarci con l'altro perché nel momento in cui ci troviamo di fronte a qualcuno che è altro nel senso che è qualcosa che pensa agisce si muove diversamente da quello che noi siamo ma soprattutto da quello che noi ci aspettiamo in un mondo fatto appunto su misura per noi in un videogame ecco lei cosa ne pensa di questo sì questo è un grande rischio questo sicuramente è un rischio che andrà gestito questo sicuramente ovvio che quello che ha detto fino ad ora sembra allora dottor Ferrero tifa per in realtà ovvio non sarà tutto rosa e fiori ci mancherebbe magari fosse così sicuramente questo ad esempio è uno dei rischi è un rischio che sta già avvenendo pensiamo ad esempio alle bolle sociali in cui ci chiudono i social network per cui ad un certo punto finisco per trovare persone per interagire con persone che la pensano esattamente come me e mi viene a mancare il contraddittorio quello che io definisco contraddittorio che in realtà è proprio quello che ci fa crescere come individui perché le persone che ragionano come noi certo sì fa piacere e per fortuna che esistano ci mancherebbe ma la vera quello che veramente ci fa crescere è quando una persona arriva e ci dice io non sono d'accordo su questa cosa magari poi lo dice anche in termini molto forti vabbè però intanto ce l'ha detto e ci spiazza allora è lì che scatta quella piccola crescita per noi un po' alla Hegel io adoro il concetto di tesi antitesi che portano poi alla sintesi alla fine è quello e aveva anche ragione appunto quindi questo questo sicuramente sì perché oggi noi parliamo di bolle sociali ma più avanti parleremo sempre di più di questi discorsi qui ad esempio abbiamo prima parlato di un partner che che non ci contraddirà mai che non litigherà mai che rispetterà sempre i nostri tempi i nostri spazi i nostri desideri ora ragionata così se io scendo per strada e racconto una cosa così tu dicono cavoli ma dove esiste questa persona la voglio conoscere voglio sposarmela ecco ok quindi questo sicuramente però ovviamente come dite voi nel lungo andare viene a mancare questo discorso qui la capacità di avere a che fare con ecco la capacità di scendere se vogliamo a compromessi e di negoziare il rischio di andare in quella direzione ad esempio pensiamo a a volte quando noi commentiamo qualcosa che che magari a nostro partner che il nostro partner non gradisce però arrivando a certi estremi rischiamo addirittura appunto il crollo della coppia o addirittura la separazione definitiva e magari anche in malo modo tutto questo già solo la paura il timore già ad esempio ci permette di crescere interiormente ecco pensate invece a che cosa comporterebbe il fatto di sapere di avere la tranquillità che tanto lui o lei non ci non ci mollerà mai tanto io vedo a volte già oggi in questi gruppi in cui appunto in cui ci sono appunto persone che presentano i loro partner digitali proprio questi gruppi anche su facebook appunto io vedo che addirittura a volte queste persone hanno più di una relazione non solo con diversi partner digitali ma a volte hanno anche una relazione con dei partner in carne e ossa ed è interessante leggere i commenti robe del tipo ieri ho parlato a Tizia che è il partner digitale appunto che ho conosciuto una donna con cui adesso sto in questo caso era un uomo etero comunque con cui sto ho iniziato ad uscire mi piace mi piacerebbe approfondire la la conoscenza ne ho parlato con lei quindi con l'avatar digitale e mi ha detto che che lei è felice per me e che appunto non vede l'ora di conoscerla anche lei e così via ecco arriviamo a quel livello capite e che uno potrebbe dire cavoli ma certo è una situazione apparentemente di liaca ma nella realtà quanto succede perché appunto esiste anche un discorso potremmo dire di tra virgolette esclusività se parliamo di una coppia ovviamente se non parliamo di una coppia il discorso cambia ci mancherebbe e così via quindi sicuramente ecco sì il grosso rischio è quello sicuramente il rischio è quello di disabituarci al contraddittorio e di conseguenza a diventare sempre più potremmo dire colpibili da questo punto di vista proprio perché non più in grado di reggere una relazione che potenzialmente può anche finire perché magari diciamo la parola sbagliato o compiamo il gesto sbagliato questo sicuramente ok perfetto Nunzio io direi di fare l'ultima domanda se tu sei d'accordo ok perfetto quindi a me questa ultima cosa che lei ha detto mi fa pensare quasi anche alla come dire ad un'avanguardia del poliamore quindi un poliamore ibrido ok allora l'ultima domanda in realtà era più come dire era una tip per noi cioè se lei dovesse scegliere di trattare il poliamore tre elementi imprescindibili per trattare questo tema schematicamente cioè concettualmente secondo lei che cosa non si può evitare di raccontare nel caso del poliamore allora nel caso dell'amore 4.0 in generale ok tre elementi allora che cosa non si può non raccontare quello che ho detto prima riguardo al fatto che noi ci innamoriamo sempre di una rappresentazione che poi questa rappresentazione riguarda una persona in carne e ossa che poi viene come rappresentazione confermata disconfermata magari ce la dobbiamo aggiustare un pochettino perché poi nella realtà questa persona mostra altri lati allora questo è un altro discorso quindi sicuramente non possiamo non parlare del fatto che appunto noi ci innamoriamo di una prima di tutto di una rappresentazione poi non possiamo non raccontare questo discorso che ho detto prima per cui noi dobbiamo vedere sempre questi fenomeni all'interno di un continuum che è partito da quando noi come esseri umani abbiamo iniziato ad evolverci quindi non solo negli ultimi 5-10 anni perché fa parte di questo continuum quindi questo questo sicuramente e la terza quello che non possiamo non raccontare in teoria già questi due sarebbero abbastanza abbastanza forti ecco quello che ho detto prima parlando proprio nello specifico del nostro tema è questo costante affrancarsi dai limiti fisici e fisiologici dell'essere umano che andrà sempre più avanti man mano che noi costruiremo sistemi sempre più intelligenti e perché no magari ad un certo punto anche a trasferirci tra virgolette all'interno del digitale o quello che starà in quel ormai in quel futuro ok grazie per la disponibilità davvero la pazienza noi non ci aspettavamo nemmeno che ci rispondesse quindi veramente grazie infatti noi ci siamo anticipati paura sì noi ci siamo anticipati tantissimo perché proprio avevamo paura che nessuno ci rispondesse però insomma come diremmo in spagnolo lo hemos logrado poi